In entrambe le direzioni sugli alettoni, quindi adesso sarebbero sbagliati rispetto al progetto, sarebbe da provarlo, se vuoi te lo faccio. Addirittura lo ipotizzano con il cavo AY sugli alettoni, tanto... Sì, tre canali con le escursioni identiche. Se vuoi a metterci gli alettoni e i parati ci metto un secondo, però mi puro. La c'è il meno vento, no? 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 Ma se per lui ha mutato... Minchia che rumore ho sentito! Non lo bevo! Quanto abbatteriamo un attimo, considerando che sono... Se non voglio fare troppe, nel capro... Sì, c'è qua la calo 700. Sì, c'è qua la calo!